Il ritorno all'economia reale sarebbe importante perché i telegiornali parlano di spread, di finanza, di derivati, ma l'economia reale si è persa perché abbiamo perso il rispetto del lavoro, questo si è grave, perché si premiano i manager di banche con diversi milioni di euro, si premiano i professori universitari che sono primi, magari luminari, poi per andare in qualche convegno a dire anche qualche scemenza ogni tanto, l'abbiamo visto, ma si è perso il rispetto anche e soprattutto del lavoro manuale, quasi forse è una peste andare a fare adesso un lavoro manuale, e qua concordo con Caon che bisognerebbe ritornare invece a riconsiderare l'economia reale, l'economia che produce ricchezza vera non quella presunta, non quella che ci viene dalle banche che sono diventate banche di investimento con i soldi nostri, poi come è capitato nel monte dei Paschi spariscono 14 miliardi perché investiti in malo modo in derivati, ma non si sa nulla e si va invece a distruggere delle economie vere quando fanno entrare la guardia di finanza al piccolo commerciante o artigiano che non ha emesso lo scontrino e si fa chiudere l'attività, dove vogliamo andare con questa gente qua? Con gente che è arrivata ad aumentare la pressione fiscale sulle aziende fino al 68,6%, qual è lo stimolo di lavorare oggi in Italia? Questo chiedo. A un ragazzo che mica tutti devono fare gli ingegneri o i dottori commercialisti o gli avvocati o i medici, se qualcuno vuole fare il meccanico, dico un mestiere così tanto per uno vale l'altro, cosa parte? Con l'officina sapendo che tra acquistare i macchinari, tra metterti in proprio e poi alla prima volta che non ti pagano, tu comunque le tasse le devi pagare lo stesso e arriverai a dare, quando hai maturato 100 euro di utile, 70 allo Stato. Qual è l'incentivo? Ecco che stiamo perdendo anche questo, stanno distruggendo qualsiasi cosa e se non ce ne siamo resi conto adesso, lo dico ai veneti, prendetene atto, questi di economia non capiscono nulla e di molte altre cose, di corruzione, l'abbiamo detto prima, è uno dei stati più corrotti al mondo, come giustizia non ne parliamo perché la mala giustizia, attenzione, è detto anche da operatori esteri, frena il 10% dell'economia italiana perché sanno che la giustizia non funziona. Anche la multinazionale, alla quale sono proprio opposto come sistema produttivo, però anche le multinazionali che vorrebbero investire in Italia se ne guardano bene, dicono ma poi se ho bisogno di riscuotere un credito mi servono 5-6 anni, ma quel cavolo che vado a investire i miei soldi lì, in quel paese, dov'è l'attrattività dello Stato d'Italia? Abbiamo perso oltre 10 punti percentuali, parlo del Veneto, dal 2008 al 2013 dove ha magari governato la destra, abbiamo chiuso 23.400 aziende e si parla, adesso prima Zanon parlava dell'azienda qui a Rubano che rischia di lasciare a casa 230 persone, quante aziende anche di 10, 5, 6 persone hanno chiuso? Perché il nostro tessuto economico e sociale è imperniato sulla piccola impresa, anche sulla micro impresa di una sola persona. 23.400 aziende, abbiamo 200.000 disoccupati, se sommiamo anche i cassi integrati arriviamo a 250.000. E gli organi di informazione di cosa parlano, magari se chiude l'Elettrolux uno stabilimento, ma di tutte queste famiglie che si sono viste poi portare via il lavoro da uno Stato che li ha completamente dimenticati? Vogliamo capirla che se restano qui le istituzioni italiane e non se ne vanno la nostra terra è distrutta? Abbiamo cominciato ad emigrare nel 1866 quando siamo stati aggregati con un plebiscito truffa all'Italia e ricominciamo adesso ad emigrare perché i nostri giovani anche laureati con master sono costretti per cercare un lavoro e andare fuori. Questo è il futuro che vi darà l'Italia e i partiti italiani, tenetene conto. Telefonata, pronto, buongiorno. Io porto la mia bandiera intanto perché prima delle regionali tutti amano il Veneto e poi se ne dimenticano per tanti anni. Questa è la bandiera del popolo Veneto e non della Lea che non c'entra niente. E anzi mi è dispiaciuto tantissimo da Veneto, visto che riporta anche l'unica bandiera che riporta la parola pace, Pax. Mi è dispiaciuto tantissimo vedere questa bandiera, marciare a Roma a fianco delle croci celtiche di casa Pound perché non c'entra proprio nulla la nostra storia con quella orribile storia che appartiene invece a questo Stato italiano. Bene, punto primo. Allora i Veneti veri siamo noi quelli che portano avanti il Veneto. Poi la storia delle regionali la conoscono tutti, tutti vogliono il Veneto, tutti amano il Veneto, addirittura vedo scritto adesso NCD Veneto Autonomo, diventano tutti i Veneti e poi ricevono ordini da Milano e da Roma. Allora non so che Veneti siano. Noi siamo i Veneti che amano il popolo Veneto. Gli altri sono delle imitazioni che poi ogni tanto dicono sì, adesso è ora di dire qualcosa a favore dell'indipendenza. Volevo sapere se siete riusciti un po' a ricompattare i movimenti indipendenti. Noi abbiamo fatto un accordo preelettorale con l'associazione Lucio Chiavegato e si sono resi conto naturalmente che Indipendenza Veneta è l'unico movimento credibile che può portare avanti un discorso serio per l'indipendenza e Lucio parteciperà con noi a questa competizione elettorale. I ragazzi sono straordinari, assieme facciamo tantissime serate, stiamo costruendo una importante base politica in Veneto perché la nostra gente abbia delle risposte adeguate e dignitose e non sia presa in giro per altri cinque anni con le solite promesse. Perché lo ha detto prima Caon, il governo centrale di Roma ha fatto un ulteriore taglio di 250 milioni, sempre sulle casse venete, nonostante sia la regione più virtuosa di tutte, però si taglia a tagli lineari. Cosa significa? Che non avremo più nulla tra poco, lo dicevo prima. Allora che si voti Moretti, che si voti Zaia, che si voti Tosi, Pinco, Pallino e che se ne voglia, gli ordini li prendono da Roma e quando non sono da Roma sono da Milano. Per i Veneti resterà sempre una sola cosa, lavorare e magari anche impiccarsi purtroppo per i casi che sappiamo che stanno aumentando di giorno in giorno. Qui la gente veneta non viene difesa da nessuno se non da indipendenza veneta. Allora quando c'era nello sci ad esempio, per fare un esempio banale, Tomba, tutti guardavamo lo sci. Se avessimo dei politici di riferimento da guardare e dire, beh questo è un esempio, uno magari apprezzerebbe la politica. La politica di oggi italiana merita di essere allontanata. La politica del territorio di indipendenza veneta noi facciamo serate con 1200 persone. Evidentemente stiamo facendo la politica giusta.